Abbiamo tantissimi eventi in programma, il primo proprio si inizia la stagione con onde sonore, saranno tutta una serie di concerti che si svolgeranno tutti i sabati sera da qui fino alla prima settimana di settembre. Inizierà il Cinema Sottomonte, quindi una rassegna cinematografica serale, molto bella, suggestiva, perché saremo proprio in spiaggia a goderci una delle migliori pellicole degli anni passati, anche molto passati. Poi per arrivare ad altre iniziative che verranno svolte nella nostra terrazza culturale, quindi in Piazza Giardino Italia, dove ci sarà una rassegna letteraria di incontro con gli autori, ci saranno incontri e spettacoli dedicati ai bambini, per arrivare quindi durante tutta questa stagione a Ferragosto, dove ci sarà un concerto importante che ci accompagnerà durante questa giornata, per poi arrivare a settembre con la prima Gravel Trophy, quindi una gara di gravel che si svolgerà qui a Gabice Mare, interesserà poi sia il Parco del San Bartolo, ma anche tutto il territorio circostante, per finire con il secondo weekend di settembre con il nostro festival ormai storico, il festival della disco music, disco diva. Troverete veramente un paese molto accogliente, dove potrete divertirvi, e nello stesso tempo anche gustare le prelibatezze del territorio, quindi oltre al divertimento vi invito a venire qui a Gabice Mare, a riempire i nostri locali sia di Gabice Mare ma anche di Gabice Monte, quindi avremo tanto da offrirvi e vi aspettiamo numerosi. Grazie.